Oggi presentiamo insieme con la Ministra Paola De Micheli, presentiamo l'ultimo tratto di un grande progetto. Altre quattro linee di tram, che unite alle quattro già in esercizio e alle tre in avanzata fase di realizzazione, porterà a Palermo ad avere undici linee di tram, in realtà molte di più, tenendo conto delle diverse derivazioni che sono funzionali, accoprire per intero il territorio della città di Palermo, da sfera cavallo ad acqua dei corsari, passando ovviamente attraverso il centro, costeggiando il waterfront e al tempo stesso interessando il polo ospedaliero dell'ospedale civico e del policlinico, raggiungendo Bonagia, raggiungendo sostanzialmente tutte le strumenti di 481 milioni per realizzare 35 degli 80 chilometri complessivi che consentiranno il trasporto all'anno di circa 80 milioni di passeggeri l'anno. Una vera straordinaria svolta nella vita della città che è già iniziata con le quattro linee in esercizio e che risponde a una visione di mobilità sostenibile. Le 7 mila posti di lavoro per i prossimi anni saranno quelli necessari per realizzare questi interventi, avremo la realizzazione di altri cinque parcheggi, oltre ai sette già previsti in via di realizzazione. Sostanzialmente la mobilità diventa sempre di più la bandiera della nuova Palermo. Stiamo lavorando per il futuro e tutti gli interventi si prevede che possono terminare entro il 2027. Il 2030 sarà un anno nel quale guardandosi indietro si potrà affermare missione compiuta.